Parti! Il grigio Zundap scivola in quarta posizione affiancato di fuori da Leone e Sassoni in giubba giallo-verde, poi Duy-Win in nero-giallo che tra il gruppetto di testa e gli altri tre che vedono Buenos Aires precedere ancora Sunny Rose, poi Rendanon e più arretrato Cima Minerva. Un gruppo piuttosto allungato in uno schema tattico singolare con un quintetto all'evidenza Meno de Ward che conduce in seconda posizione a largo Brietta, poi ancora Leone di Sassonia che ha avanzato all'interno Corbatti tra i due ha preso posto Zundap, poi ancora per vie interne Buenos Aires in giubba azzurra, a largo Duy-Win con la giubba azzurra e il cap rosa più dietro Sunny Rose, poi Rendanon e Cima Minerva quest'ultima in giubba rosa e blu. Meno de Ward affronta l'intersezione delle piste da leader, Brietta a suo esterno, di dentro Corbatti tra i cavalli c'è il comodo spazio per Buenos Aires, poi Leone di Sassonia che adesso forza i tempi muovendo a largo, poi Zundap, Sunny Rose, Cima Minerva, Duy-Win e Rendanon. Tutta molto fluida la situazione, Corbatti che prova a filtrare per vie interne, a largo c'è Leone, poi ancora Buenos Aires che prova a intervenire, Meno de Ward, Brietta, Zundap rimangono sul passo, ancora Sunny Rose, Buenos Aires che si è liberato dei suoi contendenti e prova a distendersi poco prima dell'ultimo farlo, Corbatti ancora secondo, a largo non guadagnano, Buenos Aires in fuga verso la vittoria, Buenos Aires e se la meritava è come questa vittoria, largheggiandolo nel tratto finale e lotta solo per le piazze con Corbatti che tiene botta, Cima Minerva che strappa il terzo su Zundap e Brietta. Buenos Aires segno dunque, ancora Luca Magnezzi che questa volta colpisce per il signor Fais, ai colori e al treni.